Grave caduta di stile fa comprendere come Renzi ormai non abbia più il senso del limite delle istituzioni perché la Costituzione pubblicana lui dovrebbe capire che non è un suo giocattolino la Costituzione è la casa comune degli italiani e quindi nella Costituzione attuale si riconoscono tutti e si possono riconoscere tutti, invece lui sta concentrando su se stesso questa modifica e questo si evidenzia quando mette insieme storie che insieme non potranno mai stare da un punto di vista politico e di tante altre cose perché anche all'interno del fronte del no chiaramente le sensibilità sono completamente diverse. Io credo che sia una grave caduta di stile che fa comprendere come ci sarà in Italia molto maggiore stabilità se vince il no. Io credo che questo ormai l'hanno compreso tutti anche in Europa dove lui nel giro di due mesi ha cambiato tre volte opinioni facendo una pirouette dal viva Merkel, viva Hollande al dire a basso Merkel arrivare fino al punto da basso l'Europa che toglie la bandiera quindi ci troviamo di fronte a una persona che sta provando in tutti i modi di vincere questo referendum promettendo la salute a chi è malato, i soldi a chi non le ha, i poveri di diventare ricchi stiamo ormai a uno scenario solamente propagandistico mediatico.